stiamo organizzando in ogni regione d'italia le assemblee cittadini libri di pensiero e di azione ed in preparazione dell'assemblea nazionale che si terrà il 20 novembre 2010 a roma per maggiori informazioni visita il sito per il bene comune punto net e se vuoi ci trovi anche su facebook cercando il gruppo per il bene comune